Fondi dal Masterplan Abruzzo per quasi 14 milioni di euro per importanti interventi strutturali sulla diga di Chiauci per il potenziamento della capacità idraulica dell'invasso del bacino idrico. Il progetto è stato presentato questa mattina a Pescara dal governatore Luciano D'Alfonso e dal presidente del consorzio di Bonifica Sud Franco Amicone. In totale le regioni Abruzzo e Molise investiranno oltre 25 milioni di euro per un'opera ritenuta strategica per le zone confinanti delle due regioni e per la crescita e lo sviluppo economico dei territori che ricadono sulla diga. Ad oggi abbiamo concluso il procedimento di scelta del contraente per 14 milioni di euro che consentiranno il potenziamento della capacità idraulica dell'invaso di Chiauci che non solo è un invaso che serve le cittadinanze ma anche il sistema delle imprese. La Pilkington ha bisogno dell'acqua dell'invaso di Chiauci ma tutto il distretto industriale che sta a confine tra l'Abruzzo e il Molise. Noi abbiamo fatto sì che attraverso questo intervento aumentasse la capacità per un milione e duecentomila metri cubi di acqua. Questo al termine delle attività di cantiere. Sono molto contento che ci saranno anche ulteriori dieci milioni di euro da appaltare che fanno parte dell'accordo di programma Abruzzo-Molise e 4 milioni per il consolidamento delle pareti di opere d'arte di questo importante e storico invaso. Tre le linee di intervento previste? Sì la messa in sicurezza del fiume Trigno a Valle, l'intervento sull'ammasso roccioso e l'intervento sul secondo stralcio della strada circum la quale sinistra. Di questi tre interventi tutti quanti importanti come completamente insieme poi al Masterplan Molise. Quello dell'ammasso roccioso assume particolare significato perché è una delle condizioni insieme all'intervento di ulteriori 4 milioni che appalteremo la prossima settimana col bando per la messa in sicurezza delle paratoie quindi dalla parte tecnologica come diceva il Presidente. Queste due condizioni considerando di passare al secondo step dell'invaso sperimentale e quindi dall'autorizzazione finora di 3 milioni e presso con un milione e due che diceva il Presidente che abbiamo ottenuto tre metri in più per questa campagna estiva passare poi a 8 milioni di metri cubi e quindi continuare in questo processo perché alla fine del cronoprogramma del Masterplan arrivare speriamo anche nel 2020 ai 14 milioni di metri cubi previsti come fase finale.